la ciclabile della discordia. Eh sì, potremmo chiamarla così, proprio così infatti. Allora, diciamo questo Andrea, ci sono dei passaggi avvenuti in queste settimane, il primo è stato quello di una nota da parte dell'amministrazione comunale che diceva sarebbero partiti di lì a breve i lavori per la pista ciclabile, ricordiamo una pista ciclabile o comunque una situazione quella di via Veneto che da tanto tempo attende una risposta perché insomma le cose sono cambiate, c'è la necessità di mettere in sicurezza, soprattutto anche gli utenti più deboli della della strada, l'amministrazione ha fatto un progetto e si è già iniziato a lavorare insomma in queste mattine chi passa da quelle parti un po' di insomma un po' di difficoltà, un po' di disagio ma questo è prevedibile quando si fanno i lavori lo sta vivendo ma non è tanto il disagio di questi giorni di lavoro perché sono arrivate delle dei punti di domanda, delle contestazioni anche al progetto sono state espresse lo diciamo insomma per il dovere di cronaca anche per fare un po' al punto ma sappiamo è anche il nostro desiderio che il nostro ospite che è il sindaco di Riccione possa rispondere, contestazioni che sono state portate anche in un'assemblea organizzata dal partito democratico e leggo sui giornali che una delegazione di San Lorenzo, di cittadini di San Lorenzo probabilmente nei prossimi giorni incontrerà il sindaco. Noi ce l'abbiamo al telefono il sindaco per cui chiediamo a lei un po' la la genesi di questo progetto e se anche ascoltando un po' qua e là qualche malumore si è fatto un'idea di quello che sta accadendo. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Abbiamo fatto una sintesi un po' forse un po' troppo superficiale però credo importante insomma da parte di un'amministrazione insomma avere la possibilità di spiegare che cosa che cosa ha in mente e anche che cosa sta succedendo. L'amministrazione bisogna sempre spiegare. Noi siamo partiti come secondo me deve fare l'amministrazione avendo esclusivamente come interesse quella che è della sicurezza dei bambini che si devono recare a scuola dalle proprie abitazioni. Quindi questo è stato l'unico faro che noi abbiamo seguito nell'ambito della progettazione e conseguentemente scelta in termini di realizzazione della pista ciclabile. Null'altro. Quello che è poi scaturito e che è anche sano, è un buon dibattito di città e di comunità, l'importante è che il dibattito come sempre io desidero sottolineare sia un dibattito a pro e non un dibattito fine a se stesso. Come mi pare un pochino essere leggendo le cronache di queste mattine in ragione del fatto che c'è più diciamo una discussione in casa del PD1 e del PD2 piuttosto che una sana proposta in merito. E infatti su questo è importante anche dire che ieri ci sono state due note. Andrea, anche noi sul nostro sito le potete trovare. Dal Partito Democratico da una parte che insomma contesta alcuni aspetti del progetto. Che credo che è quello che il sindaco definisse PD1. Esatto. E poi c'è oltre, insomma, la compagine che è nata dalla scissione all'interno del Partito Democratico da parte di alcuni consiglieri che attacca lo stesso PD dicendo quel progetto potevate farlo voi, insomma, anni fa. Voglio ricordare che quando si porta in opera come stiamo facendo un progetto, il progetto è assolutamente approvato dal punto di vista tecnico, quindi è possibile, è realizzabile e va in termini di sicurezza. Perché quello che forse è stato detto in maniera non corretta e voglio precisare in merito, che sembra che stiamo realizzando un progetto illegale dal punto di vista della sicurezza stradale. Non è così, ma perché non potrebbe essere così. Gli uffici tecnici danno, diciamo, la firma su un progetto solo ed esclusivamente quando lo stesso rispetta la sicurezza sia dei pedoni che dei ciclisti che degli automobilisti. Quindi diversamente non può. Se poi ci sono, come può capitare, delle criticità, delle virgole, delle sollecitazioni, delle osservazioni, io sono sempre qui, ma in modo particolare questa amministrazione ha le porte spalancate. Tanto che, giusto perché, per cronaca, questa mattina nell'entrare in comune mi sono trovata, nonostante avessi dato appuntamento a Imola e da un gruppo di residenti, per lunedì alle ore 14 per esaminare insieme questi punti di criticità, li ho trovati davanti all'amministrazione e con grande tranquillità e serenità, nonostante gli uffici avessero altro da fare, ricordo che gli uffici lavorano per il bene di tutta la città e non esclusivamente di un gruppo o di un quartiere, quindi avevano già organizzato il proprio lavoro, tutto si è fermato e hanno fatto accomodare la delegazione, nonostante, voglio ricordare, Imola è stato sindaco per dieci anni e sa perfettamente che un'amministrazione lavora su appuntamenti. Comunque, non c'è mai problema, siamo qui, i progetti sono trasparenti, le scelte sono trasparenti e la nostra disponibilità è a braccia aperte. Quali sono, sindaco, le criticità che sono state un po' sollevate dai residenti, dai politici? Fondamentalmente credo due. Uno relativo agli accessi privati, che verranno assolutamente considerati uno a uno, ma vorrei ricordare che si tratta di un grande marzapiede questa pista ciclabile, quindi come era assolutamente tollerato il marzapiede di prima, credo che non crei alcun problema, un allargamento dello stesso che porta con sé anche la ciclabile. Però guarderemo cancello per cancello e osservazione su osservazione. Dall'altro credo che sia invece una svista, perché sottolineano il fatto che la carreggiata sarà ristretta al punto tale da non essere a norma. Non è possibile, nel senso che non possiamo per legge non rispettare il codice della strada e voglio ricordare, come capita in tutti i casi, che oggi l'area di cantiere che determina la strettoia è più ampia rispetto a quello che sarà il cantiere vero e proprio, così come è in tutti i casi. Cioè quando si lavora ad un cantiere la ditta chiede più spazio rispetto a quella che sarà invece l'area di cantiere vera e propria, per comodità e per sicurezza. Quindi verrà logicamente una carreggiata a norma, verrà una pista ciclabile a norma, verrà un marciapiede a norma, perché diversamente non può essere. Quindi al di là insomma della litigiosità interna al PD che mi interessa relativamente, voglio rassicurare invece i cittadini dicionesi, gli abitanti di quel quartiere, che tutto sarà secondo legge e soprattutto saranno sempre ascoltati su quelle che sono le osservazioni e le virgole del progetto. Però l'amministrazione ha fatto una scelta importante sulla quale non tornerà indietro, che è la scelta di rendere sicuro il transito dei bambini dalle loro abitazioni alla scuola. Alla scuola per arrivare anche in una zona diversa di ricerca, certo. Per cominciare, esattamente. Sindaco, un'altra cosa, visto che purtroppo appunto avevamo anche provato a sentire qualcuno del PD, purtroppo per impegni insomma non sono riuscita a intervenire in diretta, la sollecito io su un'altra cosa che emerge un po' dalle cronache, che è il fatto che insomma dicono che l'amministrazione non ha fatto prima degli incontri con i residenti per spiegare quale sarebbe stato il progetto in essere. Allora, non ci siamo diciamo sentiti, nonostante lo facciamo sempre, di scendere nello specifico sul progetto, perché il progetto è, con piccole modifiche in merite, quello che era già in discussione sette, otto anni fa. Quindi quel quartiere aveva già visto più volte questo progetto, perché non so se tu, Simone, non ricordi, era un'idea e giustamente una proposta fatta ai tempi dell'assessore Pruccoli. Ma se ne parla tantissime, da tanto tempo, mi ricordo, ci ricordiamo anche noi. Siccome io l'unica cosa che non voglio creare è che gli animi si inaspriscano inutilmente, ci sia pretesto diciamo per un partito di strumentalizzare le questioni, non ho ritenuto necessario. Infatti parlano da soli, cioè non si ha una discussione sana e propositiva, si ha una mera discussione interna di un partito che è sempre legittima, per carità, ma che non deve assolutamente mettere in pregiudizio un'opera che viene fatto a favore dei nostri piccoli concittadini. Io voglio che i bambini siano in sicurezza, come ti dicevo, per raggiungere la scuola in primis, ma anche poi successivamente, perché proseguiremo, anche per raggiungere gli impianti sportivi. Questa è la mia premura, che poi tra il PD e nel PD e con il PD ci siano discussioni. Bene, la sede è la loro e non certamente la città. Quale sarà la tempistica di questo cantiere? Non ricordo, i tecnicismi, l'opera è iniziata e si proseguirà fino alla fine. Abbiamo avuto premura di avvertire tutti i genitori con letterine ai bambini affinché ci siano meno disagi possibili. Abbiamo premura che non ci siano logicamente questioni che possano creare pericolo ed è per quello che abbiamo anche fatto sì che il cantiere sia comodo, tra virgolette. Però queste sono le uniche premure dal punto di vista tecnico e politico. Tutto il resto, come vi dicevo, per carità, la discussione in una città ci deve essere per me sempre sana. L'importante è che sia una discussione che vada a favore di una città con osservazioni propositive. Se devo essere qui a vedere chi è quello che tiene la bandiera del PD tra Imola o Parmigiani piuttosto che Ubaldi o Casadei, mi interessa relativamente. Ed è per quello che non abbiamo ritenuto opportuno scatenare con una presentazione nel quartiere, un progetto che il quartiere conosce da sempre. Quindi non arrecando se non un effetto positivo al quartiere e non certamente negativo, questa è stata la scelta per la quale non siamo andati a far vedere nel centimetro il progetto. Teniamo conto che è una grande priorità mettere in sicurezza le ciclabili e collegarle tra di loro, per la mia amministrazione. Sindaco, noi la ringraziamo perché la risposta è una questione politica che ben oltre va a queste, quindi qui potremmo creare il dibattito, io credo però anche la risposta ai residenti, ai cittadini, al di là di quale voto mettano nell'urna. Che poi sono i veri utenti di questo intervento. E credo la rassicurazione, la ribadiamo alla fine, ma il Sindaco l'ha spiegato bene, anche di prendere in esame dei piccoli accorgimenti, c'è ancora la possibilità di fare dei piccoli cambiamenti. Come deve esserci sempre, se sono necessari per la sicurezza, se sono necessari per venire incontro a eventuali precisazioni che non abbiamo notato, ma dubito. In ogni caso ribadisco, perché per me è estremamente importante come voi sapete, l'amministrazione non è una cosa estranea alla città, è la città. Quindi le mie porte, le mie finestre, i miei luoghi sono sempre aperti. E lo sta a dimostrare il fatto, come ti dicevo all'inizio, che nonostante avessi dato un appuntamento lunedì a Imola e a rappresentanti del quartiere, questa mattina si sono presentati senza appuntamento e ciò nonostante stanno disquisendo nel settore circa le loro osservazioni. Mi pare poco corretto, ma sono comunque qui. Non è un problema, perché noi siamo loro, loro sono noi.